Il dottor Davide Bisogno vi aspetta in via Starza 27 a Cava dei Tirreni. Eliminata dalla Coppa Italia dopo la sconfitta interna contro l'Ischia, la Nocerina si rituffa nel campionato. Al San Francesco arriva il Martina, per la Nocerina l'obiettivo è la nona vittoria stagionale. Il risultato che consentirebbe di blindare la prima posizione e magari incrementare il vantaggio sul Casarano, atteso dall'ostico derby sul campo del Nardò. Sulla strada che porta i tre punti il Martina di Mister Pizzulli, Nocerina favorita dal pronostico ma sono vietati i cali di concentrazione. È il discorso che Novelli ha fatto alla squadra ed ha ripetuto nella conferenza stampa di questa mattina. Non a caso i pugliesi si presentano a San Francesco con credenziali di tutto rispetto. Il Martina infatti si avvicina al match forte di cinque risultati utili consecutivi, due vittorie e tre pareggi che hanno cancellato il deludente avvio di campionato. Nell'ultima gara inoltre i bianco-azzurri hanno sconfitto in casa la Virtus Francavilla, testimoniando il buon periodo che sta attraversando la formazione di Pizzulli. Un dato in più per non abbassare la guardia in casa Molossa. Dopo la rifinitura di questa mattina la squadra è pronta per la sfida contro i pugliesi. Probabile formazione con Vodzichi in porta, Padalino Silvestri, Sparandeo e Tempra in difesa, Provenzano Cerbaudo e Grandis, Sofagiello e Mediana in attacco da Agostino Marchez e Vono oppure lo stesso Fagiello, sempre impiegabile nel duplice ruolo di interno di centrocampo o esterno d'attacco.